Primo giorno di scuola a Teramo per gli studenti di ogni ordine e grado e primo giorno di scuola anche per la piccola Viola, la figlia del sindaco Gianguido D'Alberto che oggi ha varcato con lei la soglia dell'aula di prima elementare. Un gesto di affetto che si vuole estendere a tutti gli alunni della città, ai quali D'Alberto augura un buon anno scolastico. Un augurio a Viola ma anche a tutti gli studenti teramani? Un augurio a tutti, è il primo giorno di scuola anche per me ma soprattutto è il primo giorno di scuola per i tanti bimbi della nostra città che iniziano questo percorso di vita straordinario, alcuni lo proseguono. L'augurio che abbiamo portato a tutte le scuole è un augurio di un'attività scolastica che sia assolutamente piena di speranza, piena di soddisfazioni, piena di sorrisi, pure nelle difficoltà che ogni percorso scolastico porta con sé. L'augurio più grande che faccio ai nostri piccoli cittadini che veramente possano riscoprire, trovare nella scuola, possano innanzitutto vivere la scuola come la loro casa e quindi questo significa rispettarla, rispettare le istituzioni, rispettare le insegnanti e possano veramente vivere con il sorriso questo percorso straordinario di crescita. Una casa sicura? E questo è quello che aspetta a noi, aspetta a noi che governiamo oggi questa città, ovviamente la sicurezza deve essere il primo punto sul quale dobbiamo lavorare, che dobbiamo garantire alle famiglie, ai nostri bambini. Qualcosa è stato fatto, tanto non è stato fatto, perché in realtà, diciamocelo con grande chiarezza, ripartiamo da dove ci siamo lasciati, dall'ultimo anno scolastico. La grande sfida sta nella programmazione, molte risorse sono già in campo, dobbiamo accelerare perché si possano mettere in campo le progettazioni, in modo tale che con una programmazione chiara, da qui a breve, riusciamo a dare delle risposte definitive su quello che, ripeto, è il punto fondamentale. Cioè la sicurezza degli edifici, la sicurezza delle strutture, ma in generale ci sarà da parte di questa amministrazione, non solo per questo primo giorno di scuola, ma per tutto l'anno scolastico, una collaborazione piena e totale per l'istituzione scuola.